Abbiamo avuto certezza che il finanziamento da 18 milioni di euro che il Comune di Arezzo ha chiesto e che è stato giudicato plausibile dal Governo viene finanziato nel 2017. Quindi è una notizia importante, ora non so ancora le date ma credo che si tratti una questione di mesi, ma avremo quei denari. Saione, Pescaiola, tutta quella parte che oggi soffre fortissimamente della mancanza di fondi, della mancanza di risorse, verrà risanata, ripulita e ci saranno anche importanti opere pubbliche che ci consentiranno di creare in quella parte della città un motivo in più per andarci e non di scapparne.